Non c'è più, è sparita, è sparita! Non c'è più, è sparita, è sparita, è sparita! Non c'è più, è sparita, è sparita, è sparita! Non vuole essere il mio paparino, allora può morire. Questa volta è il turno della mamma di ucciderti! Presto diventerai uno di noi e forse comincerai a comportarti bene. Non sto scherzando! No! Allontanalo da me! No! 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 Non voglio farti del male! Tu non lo puoi capire! No! 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 La larga! Che farai? Vattene! Lasciami stare! Che farai? No, non farlo! Lasci subito da me! Fermo, fermo, fermo! No! No, no, no! Tu! Perché tutti quanti mi odiano! Avviva! Ma, no! Fa male! Fa male! Fa male! Lannazione! Lannazione all'incorso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È l'ora della nana. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.